buonasera a tutti siamo qui riuniti per la premiazione di Sirene Web Movie abbiamo i giurati Ilaria Pezzone Alessia e Dario che ci introdurranno ai bellissimi corti che sono arrivati per questa edizione ci sarà una premiazione che si svolgerà chiamando praticamente ogni autore e quindi quest'autore verrà successivamente alla proiezione dell'ospedizione del film intervistato noi abbiamo già mandato una mail a tutti gli autori per cui saranno spero saranno tutti presenti i giurati non vedono l'ora di iniziare, li ho visti belli carichi a questo punto io lascio la parola a Ilaria che se vuole introdurre i concorsi eccetera eccetera e poi io rimango in backup nel caso di bisogno e vi lascio carta bianca e speriamo che la serata sia piacevole per tutti buona serata grazie Alberto bene dunque questo appunto è il secondo anno che proponiamo questo concorso dedicato al cinema amatoriale di prossimità e in particolare quest'anno prende un nome particolare che è Extended Eye proprio per insomma differenziarlo dai corti che fanno parte appunto di altri concorsi interni al Sirene Wave Shorts sono particolarmente contenta quest'anno perché la partecipazione è stata molto mirata nel senso che abbiamo ricevuto molti corti ma soprattutto molti inerenti all'argomento quindi proprio per tale ragione abbiamo sicuramente fatto una selezione di qualità però rispetto all'anno scorso abbiamo deciso anche in virtù del fatto che comunque le proiezioni saranno online e non ci saranno appunto giornate dedicate ma saranno sempre fruibili online dal 19 al 29 di novembre fino alla fine del festival abbiamo deciso di dare maggiore visibilità alla maggior parte diciamo delle opere pervenute stasera quelle che vedremo di cui vedremo in realtà soltanto dei frammenti di tre minuti per esigenze tecniche saranno soltanto i lavori in qualche modo premiati o menzionati dalla nostra giuria che è presente abbiamo con noi Dario Stefanoni e Alessia Storri entrambi i critici cinematografici direi che a questo punto possiamo già iniziare con il primo film da introdurre e lascio la parola ad Alessia grazie Ilaria ciao Dario ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo allora abbiamo scelto per il miglior montaggio Annalisa Gonnella e Arianna allo deserto con Tombola City Simages vi leggo perché un'opera poetica in cui il montaggio è saldo sapiente consapevole lo sguardo professionale si rende capace di farsi amatore in questo lavoro vivido maturo insieme vibrante ben orchestrato ma reale posso aggiungere se volete qualcosa che mi ha colpito di questo lavoro che a me è piaciuto molto che io ascriverei tra le sinfonie metropolitane in questo caso la metropoli è Napoli che di per sé è una città sinfonica melodica e la costruzione di questo film è una serie di come se fossero dei quadri fluidi che narrano questa città attraverso i suoi personaggi e attraverso la sua tradizione e anche la sua superstizione perché Tombola fa riferimento alla tradizione della Tombola però poi si intreccia anche con le quotazioni di Borsa che salgono che scendono che vengono osservate con questo sguardo partenopeo di fatalistica accettazione diciamo di questa discesa delle quotazioni quindi c'è una malinconia sorridente che io ho molto riconosciuto conoscendo anche abbastanza bene la città però non è stato questo il motivo che me l'ha fatto amare ecco è quello che abbiamo scritto il lavoro sul montaggio e questa sinfonia che si fa anche danza quasi una danza folle una danza bizzare se volete ma abbiamo adesso allora io inviterei a partecipare mentre avvio l'estratto dal film Tombola le una o due insomma tra le registe se vogliono intervenire perché avremo anche delle domande subito dopo la visione l'ultima ora inizia ragazzi tra un'ora chiude prima più le c'è son fe ad ogni modo il mio consiglio per chi vuole fare questo questo tipo di operazioni lasciate perdere non lo so è difficile è difficile contrastare soprattutto il grande nemico interno non lo so ragazzi ma c'è poco da ridere con questi numeri io do i numeri io do i numeri ragazzi ma non ve li giocate perché non sono buoni aiuto 72 la meraviglia non mi interessa bellissimo ma a me no mi viene la meraviglia proprio quando capito di incontrare una persona per un sacco non la vedo da parecchio tempo e quando la rivedo mi viene questa meraviglia mi sento meravigliato perché non ci posso credere quella persona che non li vedevo da parecchio tempo quando la rivedo dopo un lungo tempo non ci posso credere che sia la e quindi la mi mi esce la meraviglia il meraviglia di quella persona diciamo come ha potuto credere in un mio progetto oh cane ma ultimamente due mesi fa mi sogna il cane e poi l'avevo perduto e lo cercavo poi un signore che ho incontrato nel sonno ha detto vabbè signora poi vi regalo il mio cane il vostro cane non c'è l'espressione del mio cane o che viene mio figlio da Londra quello riconosce che non è il suo cane in verità mi andai a giocare i numeri però ho messo il cane 47 e 56 il pianto perché io io piangevo e non ho detto 6 o cane perché il cane fa 6 ok rieccoci vedo Anna Lisa Gonnella buonasera ciao a tutti grazie benissimo Anna non c'è ma comunque è collegata che stava facendo un viaggio però sì sì siamo molto contenti grazie molto emozionata bene quindi io in particolare ho visto questo vostro film e mi sono chiesta insomma quale quale fosse stata la vostra esigenza nel realizzarlo cioè nell'ultima schermata diciamo ho letto che l'occasione era una tombolata per i detenuti del carcere di Sicondigliano quindi volevo capire meglio quale fosse insomma il contesto che avete ripreso e come mai questa insomma questa fruizione diciamo che questa è un'idea che avevo da un po' di tempo il fatto proprio di raccontare diciamo il legame tra la città e coloro che la abitano però in particolare pure una città particolare come Napoli e quindi attraverso un altro legame così magico come quello dell'interpretazione diciamo della vita della veglia attraverso i sogni quindi poi la smorfe e tutta l'interpretazione numerica ma è l'occasione però in cui l'abbiamo realizzato con Arianna e i miei amici è stato questo festival che insomma che si chiama Kino Kino Varco che fanno in varie città del mondo ogni anno che non è altro che un gruppo di persone che si riuniscono senza nessun diciamo scopo di lucro o comunque nessuna cosa di soldi insomma mettono a disposizione le proprie maestranze le proprie qualità si fa insieme nel giro di questo di un tempo limitato un prodotto che già si aveva in mente quindi si lavora con un gruppo che tu già hai dall'inizio e si scelgono anche altre persone come gli attori che abbiamo scelto in realtà li abbiamo incontrati lì a Napoli in occasione di questa riunione insomma e la tombolata era quell'anno c'era questa tombolata per i detenuti insomma dei carcerati e quindi abbiamo voluto unire anche questa cosa insomma sì capito chiarissima magari qualcuno di voi aveva qualche domanda da porre ad analisa sì io avevo una curiosità sì ad esempio diceva prima Alessia che da sinfonia metropolitana si sa fare danza il vostro corte avevo una curiosità sulle scene di danza improvviso improvvisata che ci sono a metà e nel finale come sono nate se sono se c'è stata una costruzione dietro se sono innescate da qualcosa o sono state spontanei diciamo che tutto nasce proprio abbiamo cercato di seguire lo stesso movimento appunto fluido dell'estrazione dei numeri della tombola ovvero quello che diciamo si è sempre fatto nella città di Napoli ma non solo è stato proprio questo narrare delle storie attraverso un'estrazione casuale di un numero e allo stesso modo noi abbiamo estratto questi numeri e poi diciamo abbiamo fatto sì abbiamo intervistato delle persone attraverso i numeri che erano usciti e questa danza è venuta fuori dall'estrazione del numero 72 La Meraviglia da questo ragazzo che avevamo incontrato proprio facendo questo film quindi diciamo la cosa che più ci interessava era riuscire a seguire proprio il filo dell'intuizione della casualità che però incredibilmente riesce a fondere appunto questi quadri di soggetti e di luoghi e riesce a fondere proprio questo interno esterno che appunto danzano insieme abbiamo cercato proprio questo di costruire la casualità però vedendo poi che trova una logica trova una logica questo è stato benissimo bene allora sarebbe stato bello stare più vicini per per parte esatto complimenti comunque per il vostro per il vostro lavoro ovviamente molto molto interessante e tra l'altro è un lavoro come alcuni altri film che vedremo come quello che per esempio adesso vado annunciando che sta un po' in bilico tra il lavoro professionale e il lavoro che ha comunque delle caratteristiche di amatorialità nel senso più puro del termine cioè nel senso di amore verso la materia che si va riprendendo cosa che abbiamo riscontrato appunto anche nel vostro quindi a questo punto passerei passerei subito al successivo film salutando Annalisa e ringraziandola per la sua presenza grazie a voi grazie a voi ciao Annalisa ad ascoltare ciao il lavoro che infatti adesso andiamo a annunciare si intitola Promessa ed è un lavoro che sta in bilico tra la video arte e il lavoro appunto di cinema di prossimità è un lavoro di Alberta Pellacani che noi abbiamo deciso di premiare per diciamo come premio ai migliori effetti speciali questa è la motivazione un lavoro suggestivo dal punto di vista visuale dai notevoli effetti ottici artigianali specie in corrispondenza del naturale pathos scaturito dall'abbraccio di madre e figlio la trasfigurazione plastica ne risulta ammirevole e pur in bilico tra cinema sperimentale giurisdizione video artistica schiva ogni artificiosità e sa farsi lirica quindi a questo punto inviterei Alberta se è presente a partecipare a raggiungerci tramite il link nel frattempo faccio vedere un estratto da questo film grazie Grazie a tutti. 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 E' un tempo interessante. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Uffa. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. la loro vita. è totalmente manipolata. e a tutti. 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 bene. e a tutti. e a tutti. faccio partire. e a tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e 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 tutti. tutti. e 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 tutti. tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e. e tutti. e tutti. e... 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 ... e... e... ... ... ... ... ... e... e... ... ... ... e... ... 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 ...... 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